che ha fatto? lei è un ampuso? no, lei aveva un po' più chiaro per stare a lui la spuola forse allora 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 ok se ti resta no profondo No, 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 no. ... ... ... ... Non ciò che ci sono? Sì. La cucina è giù, non? C'è una cucina? 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 Non è in la cucina? Non c'è la cucina? C'è una cucina? Non si, due зачae... E' una cucina? Non, anche, diépendure. Non c'è ancora? C'è una cucina? Ciò che c'è una cucina? C'è una cucina? Non, no! C'è una cucina? C'è una cucina? C'è una cucina. Sì, per me anche. Sì, per me anche. La solita? Sì. Sì. La solita è la solita di 4 giorni. In questo caso? Sì. 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 Quando è? Sì. Sì. In april. Sì. Mi anche. Sì. Sì, abbiamo bisog� swellingli. Sì. Non c'è un trattamento nelle macchine. Non c'è proprio qui. Molto soli, l'acchia! Si sono pronto. Il coro duro, i ricordati, ora è una volta che c'è il coro, c'è un corpo che va bene? Grazie a tutti. Se sei non viaggi, ti chaggia. Se sei non viaggi, non viaggi. E' una cosa che mi sono sempre molto. Grazie. Ma sei anche il calcio? Le brano, l'aleggiamento? Non mi bene. Ma ora che è il questo momento? E tu? No. No, chiuso spazio sul Non, non sono presente No, non, no Non lo so che non lo so. Non lo so. Non lo so. No. No! 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 Tommy! Tommy è il suo lavoro! Ben bombardierd me! Tommy è bambiare del giro! Oh non lo so, Ben? . Don't think I'm going to spend the time in my life. Benny? Do you think of Ben? Ben! Ben, do you have a friend who is at school? Benny? c'è un po' di manca, tante che bavrà oh, oh, oh oh, oh 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti